Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto fino al 15 giugno, tre fasi di cui due monopolizzate dall'anticiclone nordafricano. Prima fase, 6-7 giugno, l'africano viene sloggiato dal nord Italia da una perturbazione atlantica in movimento a nord delle Alpi, quindi avremo bel tempo ovunque a parte isolate temporali giovedì sulle regioni alpine, sul Piemonte e sul Levante e Ligure nelle ore pomerigliane. Bel tempo sul resto dell'Italia, temperature in calo al nord e in rialzo invece al sud delle regioni tirreniche di 3 o 4 gradi, massime maggiori di 30-32 gradi su Emilia, Puglia, Calabria e isole maggiori. Seconda fase tra l'8 e l'11 giugno, l'africano si rafforza e occupa tutta l'Italia, bel tempo su tutta la penisola, però temperature in ulteriore rialzo di 3-5 gradi ovunque, massime e maggiori di 30 gradi su Emilia, Toscana, Lazio e isole maggiori e su tutte le regioni meridionali, punti di 34-36 gradi su Toscana, Foggiano, Calabria e interno delle isole maggiori. Terza fase, finisce l'africano sloggiato dal centro nord dell'Italia da una perturbazione atlantica più decisa, correnti fresche atlantiche occupano quasi tutto il centro nord, portando nella giornata del 12 temporali sulle Alpi e regioni di nord-ovest, nella giornata del 13 temporali su tutto il nord tranne Emilia e la Romagna. Temperature massime, come dicevo, in calo sul nord Italia, dove le temperature massime saranno inferiori a 30 gradi, in calo anche sulle regioni centrali, anche qui la maggior parte delle regioni avranno temperature massime inferiori a 30 gradi, invece l'africano resiste ancora, seppure indebolito, sulle regioni meridionali dove le temperature massime saranno oltre 30 gradi.